Un nuovo capolinea per Chima Mobilità nel quartiere Tamburi di Taranto. La nuova postazione è localizzata in via Orsini, angolo piazza Gesù Divin Lavoratore. A darne notizia è la presidente di Chima Mobilità, Alfredo Spalluto, che in una nota stampa ha spiegato come la nuova soluzione rientri nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Tamburi, interventi avviati dall'amministrazione comunale, che andranno a realizzare una nuova configurazione della stessa piazza. Chima Mobilità ha modificato pertanto il capolinea delle linee 1, 2 e 3, mentre la fermata delle linee 4 per Statte e 13 per la zona industriale resta definitivamente stabilita in via Orsini lato chiesa. I percorsi delle linee 1, 2 e 3 in partenza dal capolinea di via Orsini saranno pertanto linea 1, 2 e linea 3 quartiere Tamburi via Consiglio, mentre i bus scolastici effettuano lo stesso percorso della linea 3.